Vedere questi ragazzi vestiti di colore di Latina mi fa ricordare quando ero piccolo che mi venivo a allenare con i ragazzi di Latina e a livello ciclistico c'era un bel movimento erano circa 80-90 ragazzini quindi vedere adesso che il movimento ciclistico in provincia si sta allargando sempre di più è sicuramente una questione di orgoglio anche a Sezze stiamo facendo tanto a livello ciclistico infatti sabato prossimo faremo anche noi una bella presentazione al teatro a Sezze e questo quindi significa che il presidente Caruso sta sicuramente facendo un ottimo lavoro anche perché il ciclismo a livello provinciale avrà sicuramente molto molto da dire poi abbiamo un sindaco che è stato sempre vicino allo sport e quindi tutta l'amministrazione comunale ha fatto tanto e sta facendo tanto e farà tanto quindi ragazzi vi auguro veramente di fare tanto di poter proseguire i vostri sogni perché io quando ero piccolo quando ho iniziato sognavo di diventare un ciclista professionista sono riuscito e per me è stata una grande soddisfazione all'età di 37 anni sono riuscito a vincere il campione italiano che per me è stata veramente la mia rivincita morale e sportiva quindi tanti auguri e grazie grazie Grazie.